Pallanoto, l'Ortigia scalpita nell'affrontare il primo incontro in LEN Champions League. Per l'Ortigia è ormai alle porte il primo impegno ufficiale della stagione, il più prestigioso, quello che segna il ritorno dopo tre anni in LEN Champions League. La domana e domenica a Oradea in Romania e Biancoverdi andranno a cance della qualificazione al turno successivo, impresa già riuscita nel 2021 alla prima partecipazione alla loro storia. Non sarà semplice perché il girone C nel quale è inserita l'Ortigia è forse uno dei più difficili, visto che comprende i padroni di casa dell'Oradea, dove milita l'ex Velkic, i temibili croati del primorie Rieka e soprattutto i greci del Vuleogmeni, che nella scorsa edizione sono stati sconfitti solo in semifinale dal Recco, concludendo poi la competizione al quarto posto. Un avversario difficile con il quale i Biancoverdi si confronteranno subito, domani pomeriggio alle 17, ora italiana, nel match valido per la prima giornata. Per coach Piccardo tutto è disponibile tranne il neoacquisto Inaba, che deve scontare un turno di squalifica rimediata lo scorso anno in Euro Cup. Il giapponese rientrerà sabato in occasione della sfida con l'Oradia alle 17.45, ora italiana, che rievoca il ricordo dolce amaro della semifinale di Euro Cup vinta nel 2020 e vanificata poi dalla cancellazione della finale a causa del Covid. Ultima gara, domenica mattina alle 8.45, ora italiana, con il primorie Rieka. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming e in chiaro su LEN TV. Tutte le partite, domenica mattina alle 17.45, ora italiana, con il primorie Rieka.